Siamo con il vicepresidente di Pogruppo Cesenate, Michele Canali. Michele, siamo arrivati all'otto conclusivo del trofeo Gentleman for Life, quindi ti chiedo di ripresentare e spieghiamo in cosa consiste questo trofeo benefico. Sì, quest'anno è la seconda edizione, abbiamo pensato di dare la solidarietà alla Casa delle Donne per non usare violenza, Onlus, è un'associazione presente qui a Bologna che da quando è stata fondata ha aiutato e cercato di tutelare più di 12.000 donne. Quest'anno purtroppo per il discorso del Covid è un anno particolare perché la percentuale delle violenze in casa e non si è incrementata, per cui tutto il trofeo che si è svolto durante l'anno, da gennaio fino ad oggi, ha fatto sì che ogni gentleman che partecipasse donasse una cifra e adesso abbiamo una cifra importante che abbiamo raccolto che verrà doppiata, cioè la stessa cifra verrà donata anche da Ippogruppo Cesenate. Credo che i gentleman, oltre a divertirsi in pista, a correre con agonismo e sportività, sia molto importante essere solidali con chi ha più bisogno di noi. Tanto ti ringrazio, poi se posso chiedere di ricordare che questo è un trofeo anche senza frusta. Sì, hai ragione, va sottolineato proprio in un'ottica sempre di cercare di rispettare in questo caso l'animale, in questo caso il cavallo. Tutte le corse che si sono fatte durante l'anno sono senza l'uso della frusta, così sono state le due batterie adesso e così sarà la finale. Bene, ti ringrazio, ci vediamo ovviamente per la premiazione. Per ora è tutto.